Oggi recensione del Sant'Ignani Treffler ed è solo il terzo Castignani. Via con la sigla. Treffler è per il momento l'orologio più complesso prodotto da Sant'Ignani, presentato al Watch of Italy del 2023. Ed è uno dei rarissimi orologi a doppio quadrante, ma a doppio quadrante vero, nel senso che si può davvero usare un quadrante l'altro o l'altro e passare dall'uno all'altro con un meccanismo di una genialità e di una facilità veramente incredibile. Cambio di location. Non posso che ringraziare il maestro Castignani per avermi concesso il privilegio di avere questo orologio, perché come tutti gli orologi a due quadranti anche questo Castignani è un pezzo di assoluta eccezione. La tipologia degli orologi a due quadranti è rarissima, come sapete, e sono sempre orologi in genere che costano un patrimonio. Per cui non pensavo nella mia carriera di raccoglietore di orologi di arrivare ad averne uno, perché tra l'altro sono orologi che vintage non esistono. Quindi la proposta di Sant'Ignani è veramente unica, è veramente unica, anche perché su un prezzo di circa 8 mila euro non troverete mai un orologio a due quadranti, anche di molto minor pregio del Castignani e con meno soluzioni innovative. Quindi è una recensione a cui attribuisco una certa importanza, vi prego di avere un po' di pazienza, anche perché dopo aver fatto vedere l'orologio, dopo aver fatto vedere la scatola, ci sarà un approfondimento su alcuni degli altri orologi a doppio quadrante. E vedrete che l'orologio di Castignani, pur costando una frazione del più economico di questi, non ha mica tanto da invidiare, anzi per certi aspetti anche qualcosa può avere qualcosa di più. Questo non per fare confronti ovviamente che sono impossibili e insensati, ma perché non è detto che ciò che è più complesso dal punto di vista del calibro sia anche più di valore intrinseco di per sé. Ecco, non è assolutamente detto. Ci possono essere aspetti in cui un orologio è superiore all'altro, anche se nel complesso è di minor pregio, ma poi, ripeto, il pregio bisognerebbe anche definire bene su cosa si valuta. Si deve valutare sull'insieme dell'orologio, quindi su tutti i suoi aspetti. Bene, cominciamo a vedere il Castignani. Poi ci sarà, ripeto, la parte sugli orologio più quadrante. Eccolo qui, dal vivo, della mia mano tremante, il Sante Castignani Treffler. Ora, questo è il quadrante, diciamo, più normale, cioè quello da Dress Watch, anni 60. In realtà posso dirvi che questo quadrante è in realtà un quadrante rielaborato da Sante e anche restaurato, perché riprende la base di un vecchio Gégé Lecoutre con calibro ultrapiatto P838, un calibro di cui ho fatto fatica e faccio ancora fatica a trovare una scheda tecnica completa, un calibro che è stato fatto fra il 63 e il 75, carica manuale, che in realtà ha diverse parti in comune con il famoso Vacheron Constantin 1300, che poi fu montato anche da Odemar Piguet e da Patek Philippe, il manuale da 1,68 mm, che è stato a lungo, il manuale più piatto mai fatto e con fondello che non funge da platina inferiore del calibro, da mainplate. E questo ha molte parti in comune con quello, ma è sicuramente un manuale un po' più spesso, eppure entra nella categoria dell'ultrapiatto. Sante ha preso il calibro con il relativo quadrante, ha restaurato tutto il quadrante, gli indici, quelli applicati, sono rimasti gli stessi, che erano Gégé Lecoutre, lui ha realizzato dei fori per quello che riguarda invece gli altri indici, quelli non al 369. E poi soprattutto ha creato in ottone rodiato questa sorta di decorazione a strisce orizzontali, che diciamo è un'ispirazione Art Deco Liberty, ma che ancora si usava in forma più contenuta negli orologi degli anni 50-60, ma in forma più contenuta come in questo caso, diametro di 40 mm entro i 10 mm è lo spesso. Ecco il fianco della cassa finalmente, insomma avevo appena detto a fuoco, insomma quasi a fuoco, malgrado i due calibri, i due quadranti, siamo a 10, ma meno di 10 mm totali di spessore, anche se la cassa, tra virgolette, sembra spessa, ma guardatene in rapporto al mio dito, in realtà la cassa è, come posso dire, la cassa è di 10 mm scarsi di spessore e non ha anse, cioè le anse sono cortissime e comunque non impattano sul polso. E ora vediamo, vedete anche le finiture della cassa, semplici ma di eleganza assoluta, e ora vediamo il magnifico secondo quadrante, questo è il rifacimento dell'orologio della torre del Palazzo Vecchio a Firenze, quello chiamato Treffler, per la semplice ragione che è il nome dell'orologio tedesco che nel XVII secolo l'ha fatto, è un monolancetta, qui si vede non molto, adesso sto cercando di evidenziarlo, ma in realtà i numeri che vedete e tutta la grafica è in colore blu scuro che alla luce del giorno risalta molto bene, a vederlo così uno potrebbe anche pensare a un quadrante in porcellana o a un quadrante a smalto, no? In realtà non è né a porcellana né a smalto, ha una lavorazione più semplice, cioè è fatto con una serie di tecniche tali per cui effettivamente sembra un quadrante a smalto o in porcellana. E appunto Sante mi faceva presente come si possono realizzare oggi queste cose con i nuovi materiali che si hanno a disposizione, con le nuove resine, le nuove vernici che si hanno a disposizione. Si fa veramente fatica a capire che non è una smalto, è una porcellana, bisogna vedere allora la trama che ha un effetto, ma se lo si vede bene contro luce quasi sabbiato, granuloso e questo esclude sia la porcellana che... Ecco, vi prego di guardare un altro aspetto di questo secondo quadrante, cioè il fatto che c'è veramente pochissimo spazio tra il vetro minerale e il quadrante stesso, proprio perché Sante qui è andato a cercare ogni soluzione per limare lo spessore e c'è riuscito, devo dire, in maniera egregia e perfetta. E voi pensate a questa sfera la cui lunghezza è pari al diametro di una monetina da due centesimi, che è estremamente piccola, ovviamente tutta fatta a mano da Sante, come un po' tutto il resto, senza controllo numerico di nessun tipo, dice che la prima gli si è spezzata, la seconda gli è scappata via e non l'ha mai più trovata e la terza è riuscita a completarla ed è tutto ovviamente fatto a mano con abilità e pazienza clamorose. Vedete, qui c'è la corona propria di questo secondo quadrante che è animato da un ETA 2512. Adesso poi nelle foto che metterò successivamente vedrete perché ha scelto due calibri diversi, ero obbligato a farlo per realizzare questo tipo di soluzione e presto vi spiegherò nel dettaglio il perché. Ecco, vi prego di guardare, ora tornando al quadrante Castignani, di guardare la perfezione di questo gioco dei quattro indici che richiamano le anse e le due corone. E questo è un altro dato notevole di questo bellissimo, secondo me, e assolutamente artistico orologio. Ora vi farò vedere altre parti di questo orologio. Dunque, anzitutto, la fibbia, scusate, non è tutto spazzolato, lucilato, bene, perché è un orologio che uso spesso in questi giorni e preferisco farvelo vedere così. Allora, anzitutto, voi vedete questa fibbia che sembra molto tradizionale, ma in realtà sembra tradizionale, ma non lo è, perché c'è, ci sono appunto, c'è l'ardiglione e ci sono queste due barre. Qual è la funzione della seconda barra? La vedete bene, quella di stoppare l'ardiglione dal passare dall'altra parte. Il cinturino è esattamente identico da una parte e dall'altra. È stato fatto fare apposta così, perché in questo modo, per passare dall'indossare un quadrante rispetto all'altro, basta far passare l'ardiglione dall'altra parte. Ed è facilissimo, perché con questa rotella, sì, che tra l'altro è tutta lavorata anch'essa, e c'è anche persino una specie di lucidatura che sembra quasi un grasso, ve la volevo far vedere, ma non si riesce, fa fatica a tenere il fuoco con... naturalmente mette a fuoco la pelle del mio dito, che non è quello che volevo. Ha tutta una finitura tutta sua, poi tutta la fibbia, che è tutta fatta a mano anch'essa, è tutta piena di dettagli preziosi, rifiniti, eccetera. Ma praticamente si svita qui, lo si fa fuoriuscire fino a circa, diciamo, la metà, a quel punto l'ardiglione può passare dall'altra parte e lo si riavita di nuovo. Facilissimo, praticissimo e veloce anche. Voi sapete che alcuni dei costruttori, fra cui Bovet, ma anche Pater Philippe, che hanno fatto orologi con due quadranti, per poter utilizzare alternativamente un quadrante e l'altro, hanno previsto un meccanismo complesso brevettato di rotazione della cassa. Ma tanto, anche un meccanismo di questo tipo comporta il dover togliere l'orologio dal polso, come in questo caso, ed è solo più complesso. Questo invece è di una facilità disarmante, lo si può fare praticamente in ogni condizione. Quindi basta, appunto, svitare, allentare ed estrarre in parte questa barretta. Poi la si rimette e si riavvita tutto. Ecco. Volevo anche farvi vedere come sta al polso. Ecco qui. Come vedete sta, il mio polso piccolo, come sapete, sta piuttosto bene. E quindi è elegantissimo, sia con un quadrante, sia con l'altro quadrante, che adesso vi faccio vedere. Eccolo qui. Non è di straordinaria qualità, ma almeno è un tantino più a fuoco. Quindi usiamo questa... Questa sarebbe il campo largo, no? Usiamo questo, perché almeno è un po' più a fuoco. Mi scuso per le immagini, che sono sempre un po' discutibili, ma lo sapete. Era giusto per farvi un'idea della grande indossabilità di questo orologio. E guardate qui, sembra quasi stampato, irreale, dal tanto che è vicino al vetro. Una cosa pazzesca. Ed ecco qualche foto dei due quadranti. Prima vi faccio ben vedere l'effetto, appunto, quasi stampa dovuto al basso spazio tra il quadrante e il vetro minerale. E appunto per questa ricerca incredibile di uno spessore ridotto, che ripeto, orologi con ben due calibri, da 10 mm di spessore e due quadranti, non si sono visti mai. Ecco, altre foto dell'orologio, sempre datemi la sante, infatti vedete, tutto perfettamente a fuoco, tutto perfettamente. E qui è molto importante, perché si vede come sante abbia usato per contenere lo spessore un sistema geniale. Vedete, a destra voi vedete il calibro P838 di Gégé Lecoutre. A sinistra c'è l'ETA 2512. Aveva bisogno di calibri diversi, perché come potete vedere, la parte sinistra si incastra attorno al calibro della parte destra. E in questo modo si ha ottenuto una significativa riduzione degli spessori. Il tutto poi è avvitato, tenuto fermo da quattro viti, due di un lato e due dall'altro. E questo, tra l'altro, è un sistema costruttivo che lui adotta per la prima volta e che con delle modifiche potrà essere adottato anche per altri orologi futuri della sua produzione. E' un sistema sicuramente molto più particolare e anche più efficace. Una soluzione più convincente rispetto ai precedenti sul piano della costruzione orologiera. Quindi ha inventato anche qui, come nel caso della fibbia, un qualcosa di semplice ma di efficace. Notare bene che questo tipo di soluzione comunque riduce lo spessore. Non solo perché una parte di cassa di calibro entra dentro l'altra parte di cassa e si incastra, ma anche perché si fa meno del fondello. Adesso questo è un orologio due quadranti, quindi il fondello non ci sarebbe. Ma voi supponete la stessa tecnica usata per un orologio con un solo quadrante. Si elimina il fondello, la necessità del fondello. E questo qualche millimetro lo fa risparmiare. Ecco, una soluzione per non avere la cassa tripartita o bipartita senza bisogno di avere la monocassa, la cassa monoblocco. Ecco qui, l'altro quadrante. Come vedete l'indossabilità non cambia. La corona in uso relativa al quadrante è sempre quella in alto, a destra. Ed è tutto molto perfetto e ben fatto. E soprattutto sta molto molto bene sul polso. E a corredo di questo splendido orologio la cassa più preziosa a disposizione di Sante. Come sapete, anche per le scatole restaura vecchie scatole. E questa è una scatola di dimensioni non grandi, ma piuttosto alta, molto lavorata, tutta di radica antica. è una scatola dell'Ottocento probabilmente. Voi guardate tutta come è fatta. È tutta molto bella. Solo il dettaglio della cornice della seratura merita di per sé molto. È una scatola indubbiamente degna dell'orologio. Veramente molto molto bella e dotata anche di un certo valore, diciamo. All'inizio di un'orologia a doppio quadrante contemporanei, ma anche nella storia, sono stati piuttosto, e sono piuttosto rari, riservati a una categoria a cui normalmente, difficilmente le persone comuni possono accedere. Ora vediamo qualche esempio, perché trovo che sia interessante fare anche una panoramica di questa tipologia esclusivissima, forse la più esclusiva tra tutte quelle dell'orologeria. Vediamo subito il sistema Adamo di Beauvais. Beauvais ha brevettato, dopo dieci anni di studio, col nome Amadeo, un sistema che consente ai suoi tourbillon di avere double fassa, cioè di avere esattamente due quadranti, quindi non sono due movimenti con due calibri, ma un solo calibro con due quadranti però diversi, sempre col tourbillon che si vede da una parte e dall'altra, ma con motivi diversi e con a volte indicazioni diverse. Un sistema che è molto efficace e di cui ora vi faccio vedere in immagine qualche esempio, perché poi questo sistema, che è basato sulla rotazione della cassa, permette poi anche di usare l'orologio da tavolo, trasformarlo in un orologio da tavolo o da tasca, quindi è un sistema molto complesso, molto ben fatto. Quello che vedete qui è invece un vintage bellissimo, Daniel Roth tourbillon, il primo, che aveva un doppio quadrante, perché dall'altra parte si vedeva la data e la riserva di carica. Ecco quindi qui una tipologia di doppio quadrante che è profondamente ancora una volta diversa da quella adottata dal maestro Castignani, perché qui praticamente il quadrante B non ti dà l'orario. Guardiamo invece un altro orologio prestigiosissimo, il top di Patek Philippe, con doppio quadrante. Vedete qui l'orologio Patek Philippe più complicato mai creato. L'ARF 5175, che adesso è ancora in produzione limitatissima, con un altro numero di referenza, che venne presentata nel 2014 in occasione del 175esimo anniversario dalla fondazione di Patek Philippe, e che ha due veri quadranti, perché tutte e due riportano la data, ma soprattutto le indicazioni orarie. C'è una grande petite sonnerie, una ripetizione minuti, addirittura una ripetizione acustica della data, funzione di svegliarino, calendario perpetuo istantaneo, sono 20 complicazioni. Ma soprattutto quello su cui vi vorrei chiamare l'attenzione è che qui hanno scelto di fare un brevettare un sistema di cassa reversibile. Infatti vedete i due quadranti ai lati, al centro la posizione mediana tra i due. E quindi un sistema molto complesso, su un orologio ovviamente da milioni di euro. E ora vediamo un altro Patek Philippe con due quadranti, con 12 complicazioni. Lo Sky Moon Tourbillon è presentato molti anni fa, vedete questo è il quadrante del calendario perpetuo, non istantaneo, e poi, e questo invece è il secondo quadrante con la mappa celeste e la visione del cielo delle stelle sopra Ginevra. Ci sono orologi complicatissimi che hanno non solo due quadranti, tre ma anche quattro quadranti. Sto parlando del reverso Gilles Lecoutre a Triptique e del reverso a Quadriptique. Faccio fatica a pronunciarlo. Ecco il reverso a Triptique. La foto non è di grande qualità, ma l'ho presa ovviamente dalla rete, che è anche un tourbillon calendario perpetuo, indicazioni astronomiche. Ma abbiamo anche il più recente del 2021, il reverso Quadriptique, in cui tutte le facce disponibili si utilizzano per varie complicazioni. Vi lascio sotto il link del video che dedicai a questo orologio. Qui in generale tutti i reverso, o tutti i reverso no, ma diciamo il reverso già base può avere due quadranti con un unico calibro. Cioè sono quelli a doppio fuso orario, o day and night, cioè che non hanno il doppio fuso orario, ma semplicemente così come il cronografo ha tipicamente un doppio quadrante, eccetera, eccetera. Quindi il reverso sono gli orologi forse più diffusi con doppio quadrante fra quelli mai fatti. E si possono ottenere i più semplici, non i triptique o quadriptique, a delle cifre non astronomiche. Ma non è mica finita, perché poi ci sono esempi di orologi vintage con doppio quadrante molto interessanti, senza bisogno di andare nei tasca, rimanendo negli orologi da polso. Ed ecco qui di Frank Muller, uno dei primi orologi di grande prestigio, cioè un cronografo calendario perpetuo, double phase, con un secondo quadrante, vedete, però dedicato solo alla cronografia con diverse scale, che è stato rifatto in una serie limitata di recente. Ora però vediamo orologi di un'altra categoria, cioè quelli che di fatto hanno un solo vero quadrante, ma al retro hanno una parte dedicata a ulteriori indicazioni. E questo è per esempio Richard Lange, Perpetual Calendar, Terra Luna. Come altro esempio vediamo Greboel-Forset GMT, che appunto ha il pianeta in 3D da una parte e dall'altra tutti i fusi orari con le rispettive ore. Serve anche per l'impostazione, chiaramente questa indicazione sul lato B, ma è anche rappresentato il Sol, eccetera, eccetera. Ci sono anche orologi da polso, soprattutto fra gli anni 30 e gli anni 50, ma soprattutto anni seconda metà, anni 20, anni 30, anni 40 soprattutto, che hanno sì due quadranti, ma di fatto è come se ne avessero uno solo, perché sono dallo stesso lato. Sono i cosiddetti Doctor Watch. Per esempio il Rolex, che a me piace tanto e ne ho un esemplare, ma non con questa soluzione a doppio quadrante, il Rolex Prince Doctor Watch degli anni 30. Ve ne faccio vedere. Qui l'esigenza era di evidenziare la sfera dei secondi, che a un medico era utile per i battiti e tutto quanto. Adesso so già che mi direte che naturalmente esistono tanti altri orologi con i due quadranti di cui io ho certamente dimenticato l'esistenza e avete ragione, cioè nel senso che soprattutto per quello, io non volevo darvi una panoramica completa, comunque per quello che riguarda i più diffusi, con un lato, con delle indicazioni che non sono presenti nel primo lato, quindi non sono due veri e propri quadranti, ma sono integrazioni di indicazioni del primo quadrante, la lista ovviamente è più lunga, ma è anche una cosa diversa. Quindi vedete bene che poi alla fine ovviamente l'orologio di Sante Castignani è tutta un'altra cosa, però ha due calibri del tutto indipendenti, in uno spessore, ha avuto l'idea di fare un quadrante storico, che appunto è la riproduzione di un quadrante di una torre di Palazzo Vecchio di Firenze, l'orologio Treffler, e così ha creato un'indicazione a due sfere e un'indicazione a una sfera completamente diversa, indipendenti, una può essere settata su un fuso, l'altra su un altro fuso, oltretutto se non pensate di usare entrambi i quadranti potete anche mettere in funzione uno solo dei due calibri, insomma è una soluzione che ha dell'interesse anche per la facilità di passare da un quadrante all'altro, ed è uno dei veri e pochi due quadranti completamente funzionali, cioè quindi con l'indicazione ripetuta dell'ora e tra l'altro indipendenti mai fatti. Quindi complimenti a Sante e a questo orologio e al modo assolutamente creativo con cui l'ha creato, oltre alla grande cura e alla capacità realizzativa manuale senza CNC di cui è capace. Chiudo questo video con un'ulteriore considerazione che riguarda in generale questi orologi a doppio quadrante che possono essere usati alternativamente. Vedete, Sante non ha bisogno sempre di stupire con lo stile al primo sguardo, questo orologio dimostra che è anche, come anche altri, che è perfettamente in grado di fare orologi che a una prima occhiatta distratta possono apparire di stile ordinario, ma che in realtà nascondono genialità. Un orologio con doppio quadrante è un po' come un segreto della sua complessità che possiede solo chi lo possiede, chi lo ha al polso, perché solo lui sa che ci sono i due quadranti, c'è un altro quadrante sotto. Quindi è un modo diverso di vivere un orologio raffinato con un design unico e anche in un certa misura complicato costruttivamente e meccanicamente. Un modo più discreto, interessante. e quindi con questo ritengo di dovermi fermare qui. In realtà sugli orologi di Sante ci sarebbe sempre molto di più da dire. Io sono letteralmente innamorato del modo, lo ammetto, con cui Sante realizza i suoi orologi. credo realmente che in Italia un'espressione così elevata per quello che riguarda Cass e tutto ciò che non riguarda il calibro non ci sia mai stata o almeno non ci sia mai stata nei decenni scorsi. ed è qualcosa di molto prezioso e se riesco a suscitare almeno in qualcuno la curiosità o almeno la consapevolezza che esiste un valore orologiero che non è necessariamente quello economico o non solo o non tanto quello economico ho già ottenuto un risultato che premia lo sforzo di tenere vivo il canale. Grazie, iscrivetevi, mettete like se vi è piaciuto, condividete e al prossimo video. Ciao!